E' Angelo Rossi, consigliere di Oraghinelli al Comune di Arezzo, il primo a rispondere alle dichiarazioni di Maurizio Bianconi, rese al collega Fabio Frabetti in uno speciale cronaca rettina dove si spaziava dalla Brexit alle banche piuttosto che appunto alla politica locale. Maurizio è straordinario, secondo me è uno dei politici di razza, gli ultimi politici di razza rimasti in circolazione. Il magistrale è la battuta del sindaco Fontana, che mi ha divertito molto, che gli è proprio uscita, che a lui gli vengono così. Ora, Maurizio dice le sue, tutti lo conosciamo. Io penso che Ghinelli si sia trovato in una situazione molto molto difficile, più difficile di quella che anche ci immaginavamo noi inizialmente quando ci siamo imbarcati in questa avventura, perché nel frattempo sono successe delle cose gravissime per la città, ad esempio il crollo della banca. Quando dico la banca intendo un sistema, quindi noi stiamo assistendo al tracollo di un sistema che ha portato ad Arezzo, nel bene e nel male, a essere ciò che è negli ultimi 40-50 anni. Quindi è gravissimo quello che sta succedendo alla città adesso. E trovarsi ad essere sindaco senza più punti di riferimento, buoni o cattivi che siano, giusti o sbagliati che fossero, però senza punti di riferimento, senza dei punti forti in città, perché è quello che sta succedendo. Ecco, Ghinelli si è trovato, secondo me, in una situazione molto molto difficile. Quindi anche quei pochi punti di riferimento che è riuscito a trovare, il sindaco Fontana ad esempio, servono tutti comunque a scientificare, a tenere insieme comunque una realtà che altrimenti stiamo andando verso lo sbando. Io infatti sono contento che sia stato eletto Alessandro Ghinelli, perché in una situazione del genere io penso che la tracimazione sotto bracciali sarebbe stata disastrosa.